Mette giù Kostic, va a puntare, prende l'interno. Kostic, deviazione! Audero un calcio d'angolo! Sguardo profondo, palla che arriva a Felipe Anderson! Sorpresa! La difesa dell'Inter, Lazio davanti! Pallone invece per Kostic, Kostic! Vattaggio a Juve! Kostic, prende ritmo la sua azione! Kostic viene in fondo! Kostic dietro, Rabiot! Il tocco dietro per Felipe Anderson, se la giusta dal limite! Il gol del 2 a 0, ha raddoppiato Felipe Anderson! 7 nella ripresa, segna il 7 della Lazio! Gran corsa, Kostic, uno sguardo in area, palla dentro, Rabiot! Rabiot! Toglia il cellulofano alla partita, su una giocata super! Felipe Anderson, il cross, Zaccagni! Kostic, che mette giù! Calcio! Bolo clavoroso! C'è il compito di impostare Imanis che sbaglia! Felipe Anderson! Erroraggio con punizione immediata di Felipe Anderson! Il sì, va bene come avaria accorgerala! È un problema! Ciao a tutti! Mi sono l'anno! Evi sono l'anno! Evi è il nostro voto! È un po' di tipoeste! Evi è il nostro voto! Il nostro voto! I am 두라고! Seguite il nostro voto! È un luogo! Unno! È un luogo! del nostro voto! Grazie a tutti.